Il decreto scuola è stato archiviato da pochi giorni e già in Parlamento si torna a parlare di misure che riguardano la scuola. Questa volta la Camera è alle prese con il decreto rilancio che contiene diversi articoli importanti per il sistema scolastico. L'articolo 230 dispone un incremento di 8.000 posti per il concorso ordinario per il reclutamento di docenti della scuola secondaria. Altri 8.000 posti in più sono previsti anche per il concorso straordinario. L'articolo successivo stanzia 39 milioni di euro per lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato e altri 331 milioni per le attività connesse con la ripresa dell'anno scolastico. Lo stanziamento potrà essere utilizzato per molteplici scopi. Si va dalla assistenza tecnica per la didattica a distanza all'assistenza medico-sanitaria e psicologica fino all'acquisto di dispositivi di protezione. Il fondo potrà servire anche per interventi in favore della didattica degli studenti disabili con DSA o con BES. Ma si parla anche di adattamento degli spazi interni ed esterni, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria, sanificazione dei locali scolastici, delle palestre, dei laboratori didattici. Per velocizzare tutte le operazioni i soldi verranno assegnati direttamente alle scuole in modo proporzionale al numero degli alunni ma anche tenendo conto di altri parametri, per esempio del numero degli studenti disabili. Si partirà da 20.000 euro per le scuole con minori difficoltà per arrivare a 80.000 euro o anche più nei casi più complessi. L'articolo 232 del decreto rilancio è dedicato al tema della edilizia scolastica e prevede un aumento di 30 milioni del fondo per le emergenze, ma soprattutto semplifica le modalità di accesso ai mutui da parte dei comuni. Nell'articolo 233 vengono poi incrementate le risorse destinate al sistema integrato di istruzione per la fascia 0-6 anni. Ci saranno 15 milioni in più per il fondo nazionale e 65 milioni per i soggetti che gestiscono i servizi educativi non statali. Alle scuole paritarie del primo e del secondo ciclo viene riconosciuto poi un contributo di 70 milioni per compensarle del mancato o ridotto versamento delle rette da parte delle famiglie degli alunni. L'articolo 235 infine istituisce nel bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione un fondo per l'emergenza epidemiologica con uno stanziamento di 400 milioni di euro per il 2020 e di 600 milioni di euro per il 2021. Intanto sono già stati annunciati emendamenti al decreto. La deputata di Forza Italia Viettina per esempio ha annunciato che intende chiedere un fondo per riconoscere un compenso di 350 euro a tutti gli insegnanti che hanno partecipato alle attività di didattica a distanza e c'è la proposta di consentire anche ai docenti a tempo determinato di usufruire della carta del docente anche se forse con una dotazione di 300 e non 500 euro. Si tratta certamente di misure importanti apprezzabili che però non sono per il momento sufficienti a garantire la ripresa delle attività didattiche a settembre nel rispetto delle regole fissate dal comitato tecnico scientifico. Tanto che proprio nelle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui il governo sta già pensando ad un nuovo decreto che potrebbe mettere in campo ulteriori cospicui fondi per il sistema scolastico. Ovviamente è un tema di grande attualità, noi continueremo ad aggiornarvi sia su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Come al solito voi continuate a seguirci, a leggerci, soprattutto a scriverci, a mandarci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.